Come ha chiesto il Presidente Mazzarella, un'operabilità piena ovviamente nell'ambito degli esercizi che il Governo può assumere in questa fase, soprattutto come ha indicato il Presidente Mazzarella nell'ambito della gestione della pandemia, perché non siamo conosciti dall'emergenza pandemica, la questione dell'Ucraina e il PNR. Quale è possibile, dalle pubblicazioni, che si parla di IINTIFES? Ci sarà la necessità, abbiamo evidenziato, di un ulteriore decreto di sostegno alle famiglie, alle imprese, perché questo è evidente, ovviamente i decreti legge per ragioni d'urgenza potranno essere fatti.